Ronaldo butta la maglietta della Juve dopo Juventus-Gena. Ronaldo ripudia e schifa i colori bianco-neri. E' successo oggi dopo una vittoria, dopo una vittoria a porte chiuse, quindi magari non può essere come Balotelli in Inter-Barcellona che è stato fischiato, non ha avuto screzzi. La sua squadra ha vinto, la sua squadra si è confermata in zona Champions. Quindi perché Cristiano Ronaldo butta la maglietta della Juve a terra? Due grandi spiegazioni. Uno, che lui della Juve se ne sbatte i maroni, perché lui voleva semplicemente segnare in questa partita. Lui gioca per se stesso. Lui è venuto alla Juve per Ego, perché era la squadra più vincente in Italia e pensava che doveva arrivare al terzo grande campionato d'Europa. Si era fatto l'Inghilterra dove aveva vinto tutto, si era fatto la Spagna dove aveva vinto tutto. Per Ego, per dimostrarsi superiore a Messi, voleva dimostrare che in Italia avrebbe vinto e ha scelto la squadra più facile, la via più breve. Però caro Cristiano Ronaldo, è vero che la Juve ha 9000 scudetti, quindi sarebbe stato più facile vincere in Italia. Però siccome tu volevi primeggiare in Europa, dovevi anche studiarti la storia e capire che la Juve può scendere anche il messia dal paradiso, che la Champions League non la vincerà mai, ok? Mai! Quindi l'hanno vinta una con un rigore 5 metri fuori aria, quindi zanzando, la seconda l'hanno vinta da prescritti per doping, perché loro sono i veri prescritti, perché loro sono stati indagati per essersi dopati. Andatevi a rivedere le deposizioni di Paolo Montero, di Viali, ragazzi. E quindi dovevi capire che purtroppo, fin quando la Juve non inizierà a comprarsi l'arbitro piuttosto che il guardaline, no, a comprarsi, comprarsi in termine sbagliato, a avvicinarsi all'arbitro piuttosto che il guardaline, piuttosto che il disegnatore, piuttosto che il giudice sportivo, in Europa non vincerà mai e farà magre figure con il Porto, con il Lione e con Porto e l'Ajax. E mi potresti anche dire, eh ma pensa alle figurecce che fai tu. Noi non abbiamo comprato questo Cristiano Ronaldo. Il vostro difensore centrale a 18 anni, a 20 anni, prende come il Lukaku, che è il nostro unico top player, ok? Ronaldo prende 30 milioni come tutta la rosa dell'Inter e vi ha distrutto una squadra, vi ha distrutto una squadra e oggi ha pisciato in testa a tutti voi, buttando la maglietta della Juve dopo una vittoria. Perché? Perché il bambino viziato non aveva segnato, ok? Purtroppo la prima donna, la ballerina, ambeta della situazione, non aveva segnato. E quindi ragazzi, il problema, qualche problema, al posto di pensare all'Inter, iniziate a pensare ai vostri di problemi. Che vincete le partite, ma nonostante si vince avete qualche prima donna che ha distrutto, è stato il cancro che ha distrutto la Juventus, Ronaldo. Lunga vita Cristiano Ronaldo. Dopo le distruzioni sportive, la distruzione sportiva, quando giocava Real Madrid con finali vinte, semifinale segnata all'ultimo secondo, il calcio di rigore, quel 3-1 al Bernardo, Bernabeu, dopo averla distrutta dal punto di vista calcistico, la sta distruggendo dal punto di vista societario. Stipendi non pagati, stipendi non pagati, conti in rosso e maglietta della Juventus buttata con disprezzo a terra. Quindi ragazzi, tutti i tifosi interisti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. L'Inter ha più 12 dalla Juventus, la Juve che vince col Genoa, ma si trova una bomba atomica chiamata Ronaldo in casa. E occhio che già ha creato i primi danni con la Juve che dopo tanti anni molto probabilmente non rivincerà un campionato. E pensare che lo si era comprato per portaci, portaci, portaci la Champions. Quindi già i primi danni li ha fatti. Ma occhio che la deflagrazione deve ancora arrivare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Avanti Inter, avanti Curva Nord. Per le magliette di Educazione Ambrosiana, sito Curva Nord Milano o pagina Instagram Educazione Ambrosiana. Ciao ragazzi, da Manuel e Bob è tutto. Grazie a tutti.